A 30 chilometri orari non si muore! 30 subito! 30 subito! 30 subito! 30 subito! 30 subito! 30 subito! Sì, hai 30 chilometri orari in città. La piattaforma Città30 subito ha manifestato a Roma sotto la sede del Ministero dei Trasporti per dire no alle posizioni del MIT in materia di sicurezza stradale e per dire basta alla vergognosa strage quotidiana che si consuma sulle nostre strade. Dicono qualità della vita e sicurezza delle persone devono rappresentare i pilastri decisionali in materia di mobilità. A dichiararlo sono numerose associazioni da Lega Ambiente a Salva i ciclisti che hanno lanciato un appello al Parlamento dove è in discussione la riforma del Codice della Strada presentata dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.